L'esposto presentato dalle organizzazioni sindacali parte dall'atteggiamento arrogante dell'azienda che prima ha disdetto gli accordi integrativi stabiliti nei contratti dei lavoratori storici dell'ipermercato e poi, in assenza di un accordo sindacale, ha iniziato a far recapitare lettere di trasferimento ai lavoratori, non intenzionati a firmare le condizioni imposte dalla direzione, ovvero lavorare anche di domenica come se fosse un'ordinaria giornata della settimana. Due i punti che i sindacalisti sottopongono al procuratore capo Sebastio attraverso la loro denuncia. Il primo riguarda quella che i sindacati definiscono l'illegittima coercizione della firma da parte di Oshan che, secondo le organizzazioni sindacali, costringe i lavoratori ad accettare le domeniche con la minaccia del trasferimento. L'azienda, in qualche modo, ci aveva messo sul piatto del tavolo una richiesta di domeniche lavorative per i lavoratori part-time e ci chiedeva tre domeniche lavorative quando le settimane, le domeniche nel mese erano quattro e quattro domeniche lavorative quando poi capitavano cinque domeniche lavorative. Questo era un patto individuale per i lavoratori, noi non potevamo fare un accordo che registrasse queste cose qua. Siamo andati avanti per più di un anno a discutere di questa situazione, loro ci hanno presentato successivamente degli esuberi che poi esuberi non ce n'erano e l'azienda, in ultimo, in quest'ultimo periodo, ci ha comunicato, ha comunicato ai lavoratori, a tre lavoratori attraverso una raccomandata, lo spostamento dei lavoratori di Tarno, del sede di Tarno a Trigiano. Il secondo punto riguarda le legittimità di borse lavoro, ovvero tirocini formativi e stage retribuiti dallo Stato, ai quali l'azienda continuerebbe a ricorrere, pur avendo dichiarato di essere in esubero. Per la CISL l'esposto trova fondamento anche nel trasferimento di uno dei due delegati CISLini all'interno di Oshan. I sindacati chiedono un nuovo incontro con l'azienda per chiarire sia gli aspetti legati alle turnazioni che quelli relativi agli orari e ai giorni di servizio assegnati ai lavoratori. Finora la trattativa non è ripresa perché l'azienda ha preteso la rielezione delle rappresentanze sindacali, i cui mandati erano scaduti. Ma anche ora che i sindacalisti hanno rieletto i loro delegati, il dubbio che il confronto possa non riprendere è lecito, considerando che proprio uno dei quattro rappresentanti è stato trasferito.